Sandro Busatti, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Città di Castello. Città di Castello si veste di nuovo e tutt'ora quello che luccica? Lo fosse, il mondo sarebbe ben diverso. In realtà nulla di nuovo accade sotto le guglie del nostro palazzo comunale. Al contrario, invece accadono nei corridoi tante cose che la piazza sussurra e che noi politici non possiamo dire correremo a rischio di chissà quali denunce, ma la certezza è che le acque agitate della sinistra che riguardano l'Italia ma riguardano anche la nostra città stanno toccando probabilmente anche i vertici, per cui è in dubbio, e questo lo sentiamo spesso dire in giro, anche la riconferma del sindaco Bacchetta, nel senso che una parte del PD sembra, dicono in piazza, che vorrebbe quantomeno tornare a delle primarie, per non dire che comunque sia preferirebbero una sostituzione, magari con il vice sindaco Bettarelli. I romani ci insegnano Vox Populi, Vox Dei? I romani erano furbi, capivano molto e sono andati avanti per duemila anni, noi forse meno, ma in ogni caso la verità è certa e in dubbio che probabilmente la giunta Bacchetta sta iniziando a perdere qualche pezzo e questo è importante, addirittura qualche pezzo da 90 della giunta comincia ad avere dei mal di pancia e la verità è anche che il dubbio grave, grande, che ha la sinistra è quello di non riuscire a far convergere l'elettorato di sinistra su un nome che possa essere credibile, spendibile e che possa resistere alle folate di vento innovatrice che dal centro, da destra e da sinistra comunque arrivano e comunque fanno danni gravi. Consigliere, lei parlava di esponenti importanti della maggioranza, mi correga se sbaglio, che hanno preso le distanze? Ma ci sono magari qualche assessore che non viene in consiglio comunale oppure magari ci sono situazioni per cui appunto si sente dire, si sente parlare in modo abbastanza diciamo sconnesso rispetto a quelle che sono le problematiche della città, ci sono problemi sul tappeto gravi e grossi che rimangono insoluti o quantomeno non trovano delle soluzioni ma io le dovrei dire, guardi, forse sarebbe più giusto chiedere ai diretti interessati sempre che abbiano voglia di venire in trasmissione a raccontare le cose e non le novelle perché purtroppo la verità è questa, c'è un'apparenza, uno strato, una coltre che copre la verità che difficilmente viene scalfita o quantomeno non nelle arene televisive. Questo pigiare sull'acceleratore delle grandi opere pubbliche, ritorno all'inciso che ho fatto all'inizio, la città di Castello si veste di nuovo e un proporre qualcosa a qualcuno in vista delle prossime tornate elettorali. Allora, è indubbio che il sindaco Bacchetta non è uno sproveduto e su questo sarei sproveduto io se lo sostenessi ed è chiaro che determinate opere pubbliche sono state lasciate in questo anno elettorale in modo tale che ci siano tante inaugurazioni da fare, è chiaro che non è che le buche si colmano con un velo di cipolla di asfalto che possa far dire ai tifernati ma le nostre strade finalmente sono a posto, bravo il sindaco. La verità è che la complessiva struttura della nostra città non ha disegno, non ha più una sua dimensione o dignità. Non possiamo pensare, continuare, che la stessa giunta che quando si è insediata, la giunta Bacchetta che quando si insediò ormai quattro anni fa, disse chiaramente che il piano regolatore che la giunta Cecchini aveva imbastito con lo studio Nigro che poi l'ha realizzato, era un piano da dimenticare, da modificare, da stravolgere. La verità è che proprio anche per necessità contingenti questo piano non è stato cambiato o meglio, se è stato cambiato è stato cambiato in modo molto parziale e le scelte fatte hanno determinato non una rivisitazione al meglio di quella che potrà essere città di Castello tra 5, tra 10 o tra 20 anni ma semplicemente una visitazione al ribasso per cui tutto appare segmentato, frammentato senza un disegno unitario. tradotto il sindaco Bacchetta, non sa che pesci prendere e non ha idea di come dovrà essere città di Castello da qui a 20 anni. Sì, però qui le potrebbero controbattere dicendo noi abbiamo recepito le indicazioni di un piano che viene da una giunta precedente. Guardi, le faccio un esempio che poi d'attualità che riguarda ad esempio il raccordo ferroviario che avrebbe dovuto unire la piastra logistica sarà il terrore della sinistra quando dimostreremo la sua totale inutilità ma era previsto un raccordo ferroviario con la ferrovia centrale ombra che lei sa perfettamente in che condizioni versa ma non apriamo questa parentesi perché è un discorso già ormai fatto e terminato fatto e purtroppo ineluttabile. Bene, sono riusciti nel piano regolatore a fare una previsione di impiantare questo raccordo ferroviario poi improvvisamente quando è stato discusso il piano regolatore è accaduto un fatto incredibile il raccordo ferroviario è stato cassato, è stato tolto perché? Perché c'erano delle famiglie che protestavano che avrebbe invaso i loro campi. Ora, per carità, le famiglie hanno diritto di protestare ma è anche un diritto quello del comune, anzi un dovere quello di una giunta che ha le idee chiare capire che non si può cancellare un raccordo ferroviario per far piacere a qualcuno al limite non solo si cancella ma si ridisegna, si fa arrivare in altro modo ma comunque visto che era una previsione non costosa non onerosa, doveva essere fatto ecco, questa è la mancanza di capacità di visione del futuro Gravissimo Ospedale comprensoriale, il nostro comune di città di Castello ci dobbiamo preoccupare o acque tranquille? Assolutamente no, perché le voci che lei ha sentito mi deve credere, le abbiamo sentite anche noi il declassamento è dietro l'angolo la battaglia che credo che in questi giorni sia in corso è quella del cercare comunque di rimandare questa scelta a dopo le elezioni questo è quello che mi immagino che la giunta Bacchetta auspichi per il futuro perché sarebbe l'ennesimo conclamato fallimento di una politica assolutamente priva di ogni tipo di interesse per la nostra città ma semplicemente a difesa dei propri interessi personali l'ospedale rappresenta un nucleo, un vulnus per la nostra comunità incredibile siamo arrivati al punto che tutta una serie di servizi sono stati tolti o sono in fase di dismissione progressiva, quasi silenziosa per cui mano a mano delle cose cambiano, mano a mano delle cose si modificano mano a mano l'ospedale perde di importanza il declassamento potrebbe essere purtroppo, lo dico con un'amarezza terribile una amara e ineluttabile conseguenza cerchiamo di capire, di far capire chi ci segue nella malaugurata ipotesi che l'ospedale venga declassato che cosa rischia città di Castello, che cosa rischia questa comunità non dimentichiamoci che anche molti abitanti del territorio toscano Sansepolcro, Anghiari, Caprese e Pieve vengono a città di Castello per curarsi in pratica rischia di diventare semplicemente un pronto soccorso che poi tra l'altro in questo momento con il probabile pensionamento del responsabile diventa un'ulteriore incognita perché se un pronto soccorso funziona deve essere funzionale al 100% se non siamo capaci di curare i malati ben venga a portarli in un luogo dove li sanno curare voglio essere pragmatico in quello che dico è chiaro che se per anni, se per decenni, anzi se per secoli questa cosa è avvenuta a città di Castello gli ospedali riuniti furono fatti nel 1750 questo significa che noi perdiamo un ennesimo valore del nostro territorio a favore di altri territori bene, dovremmo andarci a curare a Perugia? ce lo dicessero smettiamo di prendere in giro i cittadini che problema c'è? abbiate il coraggio di dirlo perché se ne parla così poco? non fa comodo a nessuno non fa comodo a nessuno o meglio, non fa comodo a chi governa noi possiamo dirlo, possiamo parlare in televisione ma sono vox clamantis in deserto per cui voci che servono semplicemente per alimentare la chiacchiera di piazza qui la sostanza è diversa anche perché forse è una cosa che l'amministrazione comunale non ha capito che in questi momenti non conta l'aspetto politico della questione ma l'aspetto sociale e per cui dovrebbero cercare di far squadra con la minoranza con il resto della città e innescare delle proteste forti che non possono essere le solite sciocche proteste che diventano quel documentino presentato dalla maggioranza in consiglio comunale che la maggioranza si vota che l'opposizione boccia e che non serva a nessuno la conosciamo come persona pragmatica realista, diretta si rischia veramente questo declassamento? no, diciamo che dovessi dare io un giudizio penso purtroppo di sì diciamo che per ora facciamo 60-40 e mi auguro e auguro a città di Castello che la giunta a Bacchetta sia in condizioni di imparare questo colpo e per 60-40 intende 60 rimane 40 no? lei mi insegna che ciò che accade in Altavale del Tevere da qualche anno a questa parte ha preso solo un aspetto negativo non abbiamo nessuna cosa che sia stata data all'Altavale del Tevere ci hanno tolto il tribunale, ci hanno tolto la banca ci hanno tolto l'ASL, ci hanno tolto la ferrovia adesso ci toglieranno quel tropezettino che era l'ospedale inteso come tale e lasceranno il nome ma il contenuto non ci sarà più